Buongiorno, mi chiamo Antonella Caleffi, dirigente scolastico dell'Istituto Compressivo Perasso. È un istituto che conta 1420 studenti, tantissimi, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. Io ringrazio tantissimi gli esperti del progetto Mito, che in questo momento si sono rivolti alle classi prime della scuola primaria, per offrire delle lezioni a titolo interamente gratuito, che sono state veramente di rilievo per i nostri docenti e per i nostri bambini nello specifico. I bambini hanno imparato il ritmo, hanno imparato a cantare, a fare un laboratorio musicale e di canto stando insieme, un laboratorio inclusivo, addirittura cantando, utilizzando anche il linguaggio dei segni, perché abbiamo dei bambini purtroppo non identi. Quindi, chiaramente, più di così non avremmo potuto fare e non avremmo potuto dire grazie, grazie, grazie.